Benvenuti in questo allenamento outdoor, quello di cui avete bisogno è un telefonino, un paio di cuffie, uno spazio esterno e un gradino o una panchina dove potervi allenare. Una volta visto il video andatevi a scaricare la traccia audio che trovate il link qua sotto nella descrizione e così potete allenarvi outdoor insieme a me. Iniziamo con il riscaldamento, 4 esercizi da ripetere per 3 volte. Andiamo a vedere il nostro workout di oggi che è composto da 8 esercizi, poi 5 minuti di corsa e andremo di nuovo a ripetere gli 8 esercizi. Scaricatevi la traccia audio e buon allenamento!